Eccoci cari amici, benvenuti a Agenda Mantova, un appuntamento che ci accompagnerà e vi accompagnerà da qui al 21 di novembre con quattro momenti anticipatori di questo evento che sarà al MAMU e riguarderà di fatto una fotografia di ciò che in termini di sostenibilità le aziende a Mantovale, Multi Utility, le aziende del territorio pubbliche stanno facendo oggi, ma di fatto da anni. In questa prima anticipazione, in questa prima trasmissione ho il piacere di avere con me, al mio franco in studio, eccolo qua, lo vedete tra pochissimo, l'amministratore delegato di APAM Esercizio SPA, Claudio Gratti, buongiorno e benvenuto intanto. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Alle sue spalle ci sono già i colori di Agenda Mantova, anche alle mie, il verde naturalmente è già una missione, cercheremo in questo tempo che appunto di condividere tanti interventi diluiti negli anni, se non addirittura nei decenni, che vanno poi ad applicarsi nella quotidianità della terra che viviamo, oggi naturalmente parliamo di trasporto pubblico, di tutto ciò che è ampio, il settore di intervento APAM ha come mission, direi. Prima però do qualche anticipazione, prima di andare nel concreto su quello che sarà l'appuntamento del 21 novembre, ci saranno due momenti, Telemantova e Gazzetta Telemantova ve le racconteranno in ogni aspetto, una mattinata dedicata alle scuole con TEA protagonista nel rinnovare il premio Futuro Sostenibile che arriva alla quarta edizione, quindi anche la comunicazione di sostenibilità declinata per le giovani generazioni che evidentemente ce l'hanno più prossima, ma ce l'avranno sicuramente nel domani e poi un momento istituzionale nel pomeriggio, tardo pomeriggio, serata, sempre al MAMU, dalle 17.30 in avanti, ci sarà anche a Palma naturalmente, TEA, Granapadano, Coldiretti, tanti interpreti della terra che viviamo e aggiungo già l'ospite che farà un intervento di circa un'ora ed è un climatologo di fama nazionale e non solo, è Luca Mercalli, tutto ciò avverrà il 21 novembre, prima cerchiamo di dare qualche spunto, tanti spunti di quello che è il presente, il passato e il futuro, ci metto dentro tutto amministratore, il termine sostenibilità e ringrazio e cito volentieri anche Anna Morrone che mi ha aiutato in questo escursus storico, compare in APAM e nella storia di APAM già in tempi, posso dire, non sospetti, cioè l'idea di quello che poi ha preso corpo col termine sostenibilità arriva addirittura negli anni 90. Innanzitutto credo che questo è un momento in cui si parla anche di questioni, come dire, non solo trasportistiche per le quali ovviamente siamo impegnati tutti i giorni e per i quali molto spesso siamo anche sulla stampa e sulle televisioni per non fare esattamente quello che vorrebbe che venisse fatto. La realtà dei fatti è che un'azienda come APAM, quindi del territorio, del trasporto pubblico, sulla questione di impatto ambientale c'è sempre stata, cioè c'è da, sono concetti che vanno sviluppati continuamente. Se vogliamo riferirci ai primi aspetti, quelli che anche io ricordo fondamentali per le aziende di trasporto, sono stati negli anni 90 sostanzialmente uno dei primi momenti, il fatto di poter utilizzare carburanti meno impattanti e all'epoca fu fatta la scelta da APAM di acquisire per esempio tutti gli autobus che funzionavano all'epoca solo a gasolio, gasolio con basso tenore di zolfo, inferiore al 3%, cosa che credo che oggi siano, anzi sicuramente oggi è normalmente diffusa, anzi il gasolio è... Però 30-35 anni fa non lo era, immagino. Esattamente, questo aveva un impatto evidentemente sulle emissioni abbastanza significative, almeno uno degli aspetti dell'epoca era appunto diminuire le emissioni di zolfo, ma questo ha comportato maggiori costi per l'azienda... Inevitabili, mi vengo a dire. Inevitabili perché appunto era un prodotto evidentemente più raffinato che aveva quindi... Però tante cose sono state fatte nel tempo, c'è stata la stagione delle cosiddette marmite catalitiche, così si chiamavano prima degli anni 2000, cioè dei filtri o dei meccanismi che trattavano i fumi nell'emissione prima dello scarico in atmosfera, cosa che si è poi ingegnerizzata ed è diventata un obbligo per cui tutti gli autobus nostri al di sotto di un certo tipologia euro oggi sono dotati di FAP, cioè filtro antiparticolato, che oggi hanno una codifica ministeriale tale per cui l'installazione di questi apparecchi aggiuntivi produce lo scatto di categoria di emissioni, di euro in emissioni per gli autobus. Quindi al di là del fatto che oggi APAM per fortuna sta facendo un rinnovo del proprio parco piuttosto sostenuto e significativo, poi magari ne parliamo... Ci arriviamo, tutti gli autobus da una certa data, quindi all'epoca, con gli inizi degli anni 2000, sono stati tutti attrezzati e per arrivare fino a questi ultimi anni tutti avevano appunto questi tipi di... Altri esperimenti sono stati fatti per esempio sul dual fuel, cioè la possibilità di avere autobus funzionanti misto gasolio metano, per avere quindi un'emissione minima rispetto al gasolio, perché il gasolio permette il funzionamento del motore al minimo, insomma per farlo funzionare, la potenza invece al motore viene data dal consumo e dall'utilizzo di metano, che è in questo caso un'emissione decisamente più pulita, tenuto conto che la differenza tra gasolio e metano, al di là della CO2 su cui magari poi possiamo approfondire rispetto al quale, che è il tema voglio dire un po' più di questi giorni, ma all'epoca non lo era, è un carburante decisamente più pulito, non avendo in pulità all'origine, cioè il metano è un carburante fossile, ma che all'origine non ha impurità in sé e quindi emissioni molto più pulite. Abbiamo voluto iniziare dalla genesi di questa storia che poi si riverbera in maniera totale sulla quotidianità oggi del parco mezzi, che sorprenderà anche nei numeri, perché magari riusciamo anche a scardinare qualche tabù, spero, da un numero i giornalisti amano i numeri, quindi da lì si parte per pesare il tema e cercare anche di comunicarlo al meglio, un processo, abbiamo intuito poco fa, iniziato negli anni 90 che oggi trova sempre costante rilancio di bienio in bienio, abbiamo raccontato e raccontiamo anche nei nostri telegiornali spesso, facevo riferimento poco fa, a Garatti delle acquisizioni importanti di rinnovamento per il parco mezzi APAM, do un dato appunto, dal 2017 in avanti si è parlato sempre più di quello che già accennava l'amministratore delegato, della cosiddetta metallizzazione del parco mezzi, del parco autobus, l'obiettivo è sempre più arrivare a emissioni, spero zero, ma comunque tendenti allo zero e allo stato attuale, mi corregga se sbaglio, c'è un qualcosa come vicinissimo al 70% del parco mezzi a disposizione di APAM, siamo a 69, che ha metano o che ha comunque emissioni ridotte. Allora, la situazione oggi, diciamo, ci arriviamo, dal 2017 APAM ha deciso, ha fatto questa grossa, come dire, ha voltato pagina, dicendo appunto che per quegli anni la soluzione era l'abbandono del gasolio per il passaggio al metano, poi parleremo perché non all'elettrico o altre cose a cui ci stiamo peraltro arrivando, ma per evidenti motivi oggettivi di autonomia e anche capacità di trasporto. Quindi ha preso questa decisione, quindi al 2017 in poi tutti i veicoli acquisiti sono stati acquisiti sostituendo quindi i veicoli a gasolio, i più vecchi ovviamente, con veicoli a metano. Questo ha introdotto un cambiamento organizzativo molto forte in azienda. In primis il problema di dover rifornire gli autobus a metano, cioè il metano viene distribuito dalla rete del casalinga, insomma il metano che arriva a 4 bar alle nostre cucine, domicili, e deve essere portato a 220 bar per essere caricato a bordo di un autobus. È un tema anche di infrastrutture, perché si intende molte politiche di investimento, ma anche di ripensamento infrastrutturale. Esattamente, questa cosa necessita di impianti molto potenti perché i tempi di ricarica non possono diventare lunghissimi e quindi ci siamo dotati, è stato aperto nel 2020 poi, ma nel 2017 è stato decisa questa cosa, l'impianto è stato costruito, è stato realizzato all'interno del nostro deposito, del nostro sito, con due compressori molto potenti, si parla di 1050 metri cubi ora che vengono portati da 4 bar a 220, con 4 erogatori per poter rifornire gli autobus. Questa infrastruttura era stata dimensionata all'epoca per portare al 100% la flotta urbana a metano e il 30% della flotta extraurbana a metano, la trasformazione, quindi con un dimensionamento di qualcosa che arrivava intorno ai 100-120 autobus, sostanzialmente a metano. Peraltro abbiamo visto che probabilmente la infrastruttura è in grado di andare oltre, anche se oggi sul metano bisogna fare un altro tipo di discussione. Perché poi, esatto, di periodo storico in periodo storico ci sono dei ragionamenti che poi magari il futuro fa ridiscutere. Prego. Oggi siamo con una flotta urbana che è intorno al 70% e quindi ci manca ancora un pezzettino e il pezzettino si conclude col 2026, cosa che era stata prevista peraltro, quindi questo passaggio, la flotta extraurbana è forse più avanti, nel senso che cominciamo a avere più autobus extraurbani che urbani che girano a metano, con soddisfazione peraltro, quindi efficienza anche da un punto di vista proprio degli autobus, migliore di quelli a gasolio e quindi stiamo continuando anche con questa, alimentare questo tipo di opportunità. Non è un caso che oggi gli autobus, che con questa cosa forse non ce la siano detta, ma insomma sono investimenti molto importanti. Arriva poi quel capitolo, perché se parliamo di visione quasi decennale se non oltre e politiche di investimento, APAM su ogni pacchetto di rinnovamento parco mezzi investe milioni, decine di milioni di euro. Sì, diciamo che gli autobus fortunatamente vengono coperti da un finanziamento non totale, parziale, per cui voglio dire, altrimenti le aziende di trasporto pubblico non potrebbero funzionare, quindi non è APAM in particolare. Direttamente, ok, però il TPL arriva anche a investimenti notevoli. Oggi l'investimento di un autobus tradizionale, quelli da 12 metri, non parliamo di quelli extra, più lunghi, 18, 15, eccetera. Che si intravedono ultimamente in provincia. Siamo oltre 300 mila euro, 300 mila euro. A mezzo. A mezzo. Quindi capiamo i bilanci. Sapendo che APAM ha più di 300 autobus e dovendo mantenere una flotta, come dire, che si rinnova, deve cambiare parecchi autobus all'anno per poter mantenere... Costantemente rinnova, lo dico proprio da cronista, ogni anno c'è, come dire, una flotta che arriva ed evidentemente una che viene dismessa. Esattamente. Quindi su questi temi e quindi sulla capacità di poter sostituire gli autobus più vecchi e con quelli più nuovi, evidentemente c'è tutta una politica d'investimento con valori molto importanti. Per cui non c'è una bacchetta magica che dice domani tutto elettrico. Ebbene, gli autobus che abbiamo comprato da un anno e che non sono elettrici evidentemente hanno una vita residua ancora di 15 anni. Quindi sarà qualcuno, probabilmente anche diverso dal sottoscritto, che vedrà la sostituzione di quegli autobus, tenuto conto che la fine carriera arriverà anche un po' per tutti. Però non c'è questa, come dire, visibilità esterna sul fatto di come si evolve questo aggiornamento, questo percorso, perché purtroppo è lento, non è così veloce. È lento e evidentemente poi può subentrare a qualche dinamica di mercato o qualcosa che può aggiornare in corsa. Esattamente. Stavo dicendo che, lo dico poi, restituisco subito la parola, si sovrappongono più temi e lo dico anche a chi ci segue, più temi e più anche sorgenti di energia che cerchiamo anche di affrontare in questo spazio che ci è concesso. Agli accenni che abbiamo fatto finora, negli ultimi anni evidentemente l'ha già sfiorato, ma poi il tema dell'elettrico ha preso sempre più campo anche nell'idea di ripensare e tra poco arriviamo ai risultati già in campo. Però capiamo come gli anni poi fanno sedimentare delle dinamiche. Certo, quello che stavo, dicevo che sono finanziati quindi con un percentuale molto importante di finanziamento, ma oggi i finanziamenti che sono pubblici, che arrivano quindi al Ministero, PNRR o cose analoge, prevedono il finanziamento solo per autobus di tipo metano, elettrico o idrogeno. Questo sta a significare che l'avere anticipato al 2017 qualcosa dove era ancora possibile prendere il gasolio assolutamente, diffusamente, tutti hanno comprato gasolio anche in quegli anni, ha anticipato questa scelta che è diventata a questo punto strategica, perché oggi tutte le aziende che svolgono questo tipo di servizio possono acquistare i finanziati, evidentemente, i non finanziati, ma abbiamo capito di che investimento si tratta, soltanto autobus di queste tipologie, con dei grossi problemi ancora di tipo tecnologico, e cioè l'autobus a metano è un autobus tradizionale che sostituisce uno a uno un autobus a gasolio, non ha particolari differenze nel tipo di utilizzo, e dal punto di vista delle ore di servizio, dal punto di vista delle portate, quindi sovrapponibile, senza grossi problemi. Gli autobus elettrici hanno ancora un problema legato, la chiamano alla missione di servizio, e cioè devono essere programmati rispetto alle ore di servizio, al tipo di servizio, per la questione autonomia. hanno un problema di ricarica non banale, perché non si ricaricano in 15 minuti o 10 minuti come un autobus a metano, o 5 minuti come un autobus a gasolio, tempi dilatati, quindi molto spesso bisogna incastrare più autobus che non possono contemporaneamente essere in servizio, questo vuol dire aumentare il numero di mezzi per fare lo stesso tipo di servizio, ma soprattutto hanno un problema legato al fatto che devono, adesso non è come l'aspirapolvere che ha, come dire, il filo che li segue, però devono rientrare sempre nello stesso posto, perché la potenza installata per poterli ricaricare è piuttosto significativa. Quindi l'autobus elettrico oggi ha come missione il servizio di tipo urbano. Già il servizio extraurbano, tanto è vero che se si va anche a cercare, insomma, in rete, eccetera, di autobus extraurbani elettrici, ci sono, ma sono... Sono delle criticità che ha appena descritto, evidentemente. Sono delle criticità molto importanti. Evidenti, mi viene da dire. L'ultimo tema sull'elettrico, che vale anche poi per l'idrogeno, di cui magari parliamo... Ah beh, non me lo faccio sfuggire il tema dell'idrogeno, è l'attualità totale. È il tema che oggi un autobus elettrico costa più del doppio, quindi a parità di investimento il rinnovo del parco risulta esattamente la metà di quello che potrebbe essere. Quindi, questo non è un discorso, è meglio il combustibile fossile piuttosto che l'elettrico, eccetera. È un discorso di bilancio. È una questione organizzativa di che cosa è possibile fare con le risorse che ci sono e cercare di capire anche se la neutralità tecnologica può ancora essere un tema sul quale fare alcune valutazioni. Cioè a dire, il metano oggi, se fossile, abbiamo visto, produce meno emissioni di tipo classico, cioè il PM, cioè le polveri sottili, i derivanti da gasolio, gli idrocarburi, perché è pulito, gli ossidi di azoto. Tanto è vero che negli ultimi tre anni noi abbiamo dimezzato queste emissioni sull'intero parco, grazie al fatto di aver introdotto queste auto in tre anni. È tantissimo. È tantissimo. Non è stata migliorata, se non piccole percentuali, perché la differenza c'è a favore del metano, rispetto alla CO2, le emissioni di CO2. Però esiste una soluzione anche sulla questione metano, e cioè il biometano. Il biometano è prodotto in particolare dalla Forsu, quindi dalla frazione organica dei rifiuti. E mi dà l'assist per aggiungere che poi c'è anche un progetto che vede Mantova, come dire, guardare al domani, di dare anche una circolarità a ciò che diceva Garati poco fa, ovvero c'è un impianto, lo cito, di TEA di Revere, che già è, come dire, predisposto per arrivare a creare energia dalla sezione umida degli scarti della cittadinanza mantovana. Quindi non c'è neanche un trasferimento di rifiuti, che è un altro tema che il futuro ci impone di evitare e potrebbe, anzi potrà, consentire appunto di arrivare anche a un abbattimento di emissioni da biometano sul trasporto pubblico. Cito per chi magari si è collegato solo ora, Claudio Garati sarà tra gli ospiti dell'evento il 21 novembre Agenda a Mantova, l'ho definito una possibile fotografia dello Stato dell'arte su ciò che in termini di sostenibilità, di cui stiamo parlando anche in questo appuntamento, TEA, Coldiretti, Consorzio Grana Padano, APAM naturalmente e Consorzio Atterri e Virgilio stanno facendo e faranno. Quindi una fotografia di ciò che Mantova di fatto sta investendo e su cui si sta ragionando per abbattere le emissioni, abbattere la propria impronta ambientale, ognuno per la sua, e guardare al domani, perché abbiamo capito che le politiche vanno ad aggiornarsi costantemente. Ha citato l'amministratore la parola idrogeno, la parola magica idrogeno, attualissima su Mantova, con tante sfumature, lo dico, chi ci segue magari lo sa benissimo, c'è un mega progetto che riguarda Valdaro, che riguarda possibili futuri importanti rinnovamenti sull'idrogeno, inteso idrogeno green, quindi di produzione anche qui a impatto relativo sull'ambiente, e soprattutto c'è in atto una trasformazione di una nave che può essere modello, così definita dagli stessi operatori della provincia che sta operando già sul Fissero Tartaro, Mantova Venezia, una nave cargo commerciale, che potrebbe essere da gasolio, anzi sarà da gasolio trasformata in idrogeno, un modello che può trovare applicazione, laddove anche qui le infrastrutture si dovranno un po' ottimizzare, sul trasporto pubblico? Una domanda qui con una risposta ampia. Allora, ho speso parole di lode al metano rispetto alle altre possibilità, la realtà è che APAM comunque non è che ha chiuso la sala cinesca e non vuole guardarsi in giro, APAM ha acquisito quattro autobus elettrici, due dei quali verranno presentati prossimamente, e per i quali si è infrastrutturata con costi elevatissimi di poterli ricaricare evidentemente in azienda, in deposito, utilizzando l'impianto fotovoltaico che dal 2012 copre tutti i capannoni dell'azienda, Via dei Toscani, via dei Toscani, un megawatt installato, poco meno perché sopra il megawatt si diventa qualcosa industriale, quindi siamo rimasti sotto di qualche kilowatt, un megawatt, e soprattutto di un impianto di accumulo da un megawattora, che è in grado quindi la notte, accumulata l'energia durante il giorno, noi oggi produciamo circa un milione di megawattora, un gigawatt all'anno, grosso modo, ne autoconsumiamo un terzo, i due terzi lo vendiamo, in realtà lo accumuleremo per poter ricaricare gli autobus, questo credo che sia uno dei primi meccanismi virtuosi, molto costosi, tra virgolette, ma virtuoso che produce questo effetto, quindi in questo momento vengono consegnati due di questi quattro autobus che prossimamente vedremo girare, questa è una news sulla circolare interna, la CC, che tutti i mantovani di città conoscono benissimo, che tutti conoscono benissimo perché riteniamo che è proprio l'Ido, è proprio in quelle zone, è la destinazione, è la destinazione dove bisogna cominciare a portare emissioni gassose, portarle a... Quindi anche il tema accumulo è una conquista recentissima direi? L'accumulo è stato acquisito insieme a questi autobus, l'impianto fotovoltaico sta producendo dal 2012, in questi giorni si è appunto conclusa l'installazione delle colonine di ricarica, della trasformazione della cabina elettrica che è stata portata a 800 kilowatt, perché occorre una potenza molto alta per poter poi, in caso voglio dire non c'è il sole, non si ha l'energia, eccetera, poter ricaricare gli autobus, e questo accumulo da... Ma non è finita qui perché insieme ai quattro autobus sono stati acquisiti, sono già stati... la gara è già stata assegnata, sono stati acquisiti cinque autobus a idrogeno, sul filone di quello che lei ha annunciato, che in Mantua l'idrogeno sarà disponibile, o è già disponibile, oggi è disponibile il grigio, non il verde, cioè quello da produzione industriale, insomma quindi con emissioni comunque ancora di CO2, ma oggi è disponibile, non è così nelle altre città d'Italia. A Mantua c'è, noi abbiamo questo accordo con Sappio evidentemente, che è azienda protagonista anche dell'idrogen valley, più volte citata nei servizi, che vede la provincia, Valdaro naturalmente... Per cui dalla primavera del 2016 avremo anche cinque autobus a idrogeno. 26. Ho detto 16, 26, chiedo scusa. Primavera del 2026 quindi arrivano. Cinque autobus a idrogeno, che Sappio si è impegnato a rifornirci, evidentemente perché noi l'impianto di rifornimento... Non siamo in grado di installarlo al di là degli investimenti, ma anche degli spazi, delle sicurezze, eccetera, quindi sarebbe qualcosa di molto più complesso, però abbiamo pensato che questa evoluzione dall'elettrico all'idrogeno, soprattutto in vista del dover trovare un combustibile, un carburante, un vettore energetico per soprattutto il servizio exurbano, quindi con grandi autonomie, non è l'elettrico purtroppo... Quindi dove l'elettrico non arriva l'idrogeno può essere il futuro. Esattamente questo. È già una buona prospettiva. Sappio, lo ribadisco, il partner che vede, Mantovano, che vede l'applicazione pratica di Idrogen Valley, del modello a cui ho fatto riferimento qualche minuto fa, la nave che abbiamo raccontato anche qualche settimana fa nei telegiornali, che sarà appunto un modello di conversione e che sarà anche il partner di APAM, esercizio SPA di APAM, in questo percorso futuribile, ma prossimo, abbiamo già capito, 2026. Il 2012, altra data chiave, l'abbiamo citata, quel fotovoltaico che abbiamo capito nel 2024 va a compimento con l'accumulo, stiamo dando tanti spunti. Ne aggiungo un altro, perché poi è quello che sta anche più a cuore ai mantovani. È una garanzia per l'ambiente, l'abbiamo detto, ma per il servizio, perché tutti gli investimenti vanno nell'ottica ambientale, naturalmente, ma dei servizi ai cittadini. Spesso, magari anche nella comunicazione, APAM deve avvicinarsi al suo utente. Questo è un buon modo per farlo. Questo è un buon modo per farlo. Non abbiamo avuto grandi occasioni, quindi ringrazio questo tipo di iniziativa, perché davvero ci ha visto subito partecipi, perché effettivamente possiamo aprire almeno una finestra su questo tipo di argomento, che ci impegna moltissimo, che è importante e ha impatti sui bilanci di un'azienda, che, insomma, voglio dire, credo che sia noto tutto, che le aziende di trasporto non fanno grandi bilanci, ma sono a disposizione del territorio. Da mission, è l'azienda per il territorio. Le risorse sono sempre molto tirate, lo sappiamo molto bene, però su questi aspetti non è possibile fare speculazioni. Quindi il fatto di tenersi aggiornati, il fatto di seguire appunto questo tipo di evoluzione, ci deve vedere in prima linea e deve essere comunicato sicuramente molto di più e deve essere reso disponibile, insomma, con il tipo di informazione. Mi ha già risposto alla domanda che sto per fare, ma siamo in chiusura, vorrei lasciare proprio un messaggio chiaro a chi ci segue. Abbiamo ragionato su come in 30 anni e più si è evoluta la consapevolezza, da un lato, delle tematiche ambientali, ma anche la tecnologia e come si siano sovrapposte varie dinamiche. Oggi, domanda secca, l'idrogeno può rappresentare ciò che completerebbe il discorso? Abbiamo capito che il metano ha delle potenzialità già applicate. L'elettrico ne ha, ma limitate, il tema dell'autonomia è quello. L'idrogeno completerebbe questo disegno? Sicuramente sì, cioè l'idrogeno è quello che sta pagando lo scotto di essere una tecnologia non diffusa, matura sì, nel senso che, come dire, le fuel cell ormai ci sono ovunque, anzi le industrie le utilizzano per prodursi l'idrogeno in autonomia, eccetera, quindi non è una tecnologia nuovissima. Il tema è quello del fatto che noi non vediamo distributori a idrogeno. L'infrastrutturazione sempre. L'infrastrutturazione. Metano probabilmente sì, ce n'è molto più diffuso, l'idrogeno ancora siamo all'età della pietra. Il fatto che appunto Mantua sia stata scelta in questo percorso che arriva dal Trentino Alto Adige, che scende fino qua, dove appunto si sta facendo un po' di sperimentazione, eccetera, infrastrutturazione, è un momento che va, come dire, presidiato, percorso insieme, evidentemente con gli sforzi che tutti noi possiamo fare, che non ci possiamo permetterci. Ripeto, oggi un autobus a idrogeno costa 650 mila euro contro un autobus che ne costa 320. Uno a due. Uno a due. Quindi è evidente che non possiamo pensare che tutti gli autobus di colpo diventano idrogeno, eccetera. Però sono delle sperimentazioni, o qualcosa di più di sperimentazione, perché andranno in esercizio, che saranno autobus che sostituiscono gli autobus tradizionali in modo identico. Definitivo, però con quel peso a bilancio che c'è appena descritto. Quel peso a bilancio che dovrebbe, nel tempo, ritornare a essere qualcosa di gestibile nel momento in cui c'è una diffusione maggiore della distribuzione di questo vettore energetico. Mi sono tenuto l'ultimo tema, e ce l'ha tra le mani, di fatto l'amministratore delegato di APAM, il bilancio di sostenibilità. Cosa significa? Lo fate da sette anni. Cosa significa per APAM? A parte che lo sappiamo, lo raccontiamo che nelle nostre trasmissioni, ormai è divenuto un obbligo per le società a certificare la propria impronta ambientale, la definisco sempre così volentieri, però essere da sette anni a certificarvi verso il pubblico, che cosa significa appunto bilancio di sostenibilità? Allora, bilancio di sostenibilità, allora il primo è stato fatto appunto nel 17, quindi al sesto anno. Sesta edizione, sette anni di bilancio. Sì, che peraltro lo dico, è sul nostro sito APAM pubblico, quindi può essere letto e scaricato, ovviamente molto interessante, ma certifica l'impegno di un'azienda su questo territorio. Lo certifica sia dal punto di vista ambientale, perché è uno dei temi sicuramente, ma lo certifica anche dal punto di vista socio-economico. Lì si può capire quante sono le famiglie che grazie ad APAM svolgono un'attività, la svolgono per il territorio, vengono retribuite, si mantengono grazie a questo tipo di servizio. Ci sono tutti gli impatti che l'azienda ha con il resto del territorio. Quindi tutte le cose che vengono fatte in maniera molto trasparente. Quindi questo è, credo, un modo molto chiaro per esprimere, insomma, per far capire cosa ci sta dietro ad un autobus che gira per la strada, che poi molto spesso si ritiene che un autobus è una sorta di interruttore da qualche parte che si accende e si spegne e questo parte e si ferma. È un po' riduttivo. Ecco, è un po' riduttivo, non è proprio così. C'è una complessità, è un grosso ingranaggio molto complesso che deve girare tutto contemporaneamente, in modo contemporaneo. Quindi, secondo me, la lettura di questo documento può essere chiarificatore di tante questioni rispetto alle quali poi, no, di pancia, ma guarda, non passa l'autobus perché non sono capaci di farlo passare. Non è proprio questo. C'è qualcosa in più dietro a quell'eventuale ritardo. Io ringrazio l'amministratore delegato di APAM Esercizio S.P.A., Claudio Gratti, buon lavoro, il mio arrivederci migliore è sempre questo. E soprattutto l'appuntamento per il 21 novembre, l'ho detto in apertura, lo ribadisco nei dettagli in chiusura, 21 novembre al MAMU di Mantova, una prima parte dedicata alle scuole, la mattina con il premio futuro sostenibile quarta edizione di TEA, e invece il pomeriggio, dalle 17.30 fino alle 19.30, con un momento pubblico, sempre al MAMU, e cito volentieri sempre i partner che saranno della serata, TEA, APAM, Coldiretti, Consorzio Tutela Grana Padano e Latterie, Consorzio Latterie Virgilio. Appuntamento appunto il 21 novembre, ringrazio anche volentieri Anna Morrone che ci ha aiutato in questa puntata, APAM sarà ovviamente protagonista. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.